Ma salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su Genshin. Dopo tanto tempo sono ritornata qui su Genshin. Perché? Perché appunto nel sondaggio avete risposto che avevate voglia di avere un po' di Genshin. E andiamo a vedere un po' di novità perché veramente non lo apro da tantissimo tempo. La mia povertà è sempre uguale ma come personaggio da evocare c'è Chiori e Hitto. Peccato perché Hitto lo avevo, cioè ce l'ho. E non usciva da un bel po' e cominciavo a diventare uno dei personaggi che non uscivano da parecchio. Quindi insomma, di poche persone che lo hanno. Per di più mi servirebbe un po' di costellazioni del ticcio là, quello lì, come si chiama? Quello, cane. E poi c'è, vabbè, io ho scelto di Rook. E ho saputo che questo banner, una volta finito, perderemo le possibilità di 50 e 50, quindi di trovarlo. Cioè, io non lo sapevo questa cosa, ma ho scoperto tramite altri creator che praticamente, se voi magari avete trovato un altro di 5 stelle, che non è di Rook, ovviamente otterrete il 50 e 50. Cioè, perché voi non è detto che dovete trovare per forza quello che avete scelto. E la cosa brutta è che effettivamente poi si va a perdere, cioè tutte le spese che avete fatto si vanno a fottere. E si devono utilizzare anche i desideri, quelli lì, gettoni, non come questi qui, che è il banner base. Che gran fregatura! Vabbè, andiamo a vedere la sezione di compense che hanno messo. Allora, oggi ci sono 100 di mogem. Vabbè, queste qua le ho già riscatto all'inizio. Volevo dirvi, vogliamo fare questa sfida di... Io non consumerò, e farò una grande pratica, non consumerò nessuna primogem. Ok, le lascerò tutte quante qui. E vi ricordo che comunque noi avevamo la sfida impossibile di completare tutto che è il Cine Impact, o almeno la parte esplorativa. Avevo cominciato, ma poi mi sono persa e sono andata un po' a farmi fottere. Nel senso che non ho più continuato, né niente. Infatti, l'unico che ho un po' più decente è Fontaine, anche se le ultime due regioni non sono riuscite a finirle. Ed è uscita anche un'altra parte nuova, e oddio. Quindi, ora vi chiedo, vogliamo fare che io mi tengo tutte le primogeni, tutti gli eventi, tutte le cose che trovo, e facciamo una mega pullatona in live? Fatemi sapere se l'idea vi piace. O in un video, magari, anche, va bene, un video. Un bel forzo, una live. Che ne dite? Fatemi sapere. Allora, quello che faremo oggi è assommare un po' tutte le cose che mi mancano da fare. Allora, le missioni storia, devo finire quella di questa tizia. Poi ho sboccato quella di fiori, e devo fare ancora quella di navia. Oh mio Dio. Invece di questa dei personaggi, mi mancano l'inette e Keia. E devo completare quella di Leia. Ok. Poi, invece, l'esplorazione è stato di merda, perché devo continuare comunque l'esplorazione nuova, e devo fare anche le missioni base, perché voi sapete che le missioni base si vanno a controllare nella reputazione. Tipo, per esempio, all'Io e dovrei avere questo fatto. O perlomeno, credo. Almeno su questo punto, credo di stare a posto. Credo. Vediamo un po'. Ah no, perché hanno aggiunto le altre, quindi di conseguenza, vedete. Dobbiamo fare 48 su 60. Cioè, io ho 48 su 60, però almeno il livello qui ce l'ho fatto, e diciamo che l'Io e sta al 72% di esplorazione. Quindi, aiaiaia, sto un po' messa male per quanto riguarda le missioni, però per il resto sto benino. Benino, si può dire. Allora, quindi dobbiamo cercare di finire tutte le sfide, e tutte le cose. Quindi, mi raccomando, se volete, vi potete lasciare anche i vostri dio, io vi lascio il mio. Se vi va qualche volta, giochiamo assieme. Però, mi raccomando, come cortesia di entrare sul mio gruppo Discord. In modo tale che magari possiamo chiacchierare insieme, perché io, essendo da play, chattare, sinceramente non riesco. Quindi, se volete entrare nel gruppo, il link è disponibile sempre in descrizione di oggi il video. Non scade, quindi non ha scadenza, proprio per permettervi di accenerci. E, almeno così ci facciamo qualche cosa insieme, anche perché da sola, ripeto, mi annoio. Quindi, è una cosa che un po' mi turba. Quindi, se volete, io vi lascio questo video, giusto per farvi sapere come sono arrivata, che cosa da fare, se vi va di fare insieme a me le missioni, se non vi annoiate, se... Qualsiasi cosa, ok? Allora, io nel frattempo voglio far diventare la resina così va avanti, perché se no la resina rimane firma. Vediamo un po'. No, ho già raggiunto il limite di 5. Interessante. Quindi ho tutta la resina firma. Comunque vi faccio vedere velocemente i miei personaggi, come sono messi. Shao è sempre da sistemare, perché purtroppo non ha la sua lancia. Fiscia lo dovrei portare al 90. New Vietto dovrei sistemare la sua arma e le sue abilità. Il cinese blu, come lo chiamo io, è praticamente abbastanza messo bene, si può dire. Vabbè, comunque questi sono i miei personaggi. Ho anche il Vietto, potrei tanto di Rook. E anzi, volevo la terza nuova, quella lì, di Rook, perché avevo la possibilità di utilizzare al meglio gaming, ma non solo, anche magari di Rook. L'unica cosa di gaming è che sono riuscita a trovare solo due costellazioni. Peccato perché mi piaceva. E poi, boh, c'ho altri personaggi buttati, che magari potrei potenziare, magari se mi date una mano voi. Ve ne sarei grata, perché non gioco da la vita a Genshin, e non mi ricordo nemmeno le build, per dirvi. È una cosa che faccio veramente difficoltà, anche per esempio mettere gli altri fatti. Quindi, se vogliamo creare una community di persone che giocano a Genshin, potete ricarrvi nel mio Discord. Non c'è problema, c'è anche la selezione apposta, e ci sono anche i link delle varie novità, delle varie cose che arrivano direttamente dal server ufficiale. Quindi non ci dovrebbero essere nessun tipo di problema. Io vi aspetto nella mia community, e ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!